Bentornati sono Mamamazzo e bentornati nella rubrica Retro Dilan che il mese scorso ha fatto una pausa per poter parlare sia del 418 che del 418 bis. Questo mese torniamo in pompa magna e dato che siamo praticamente a metà estate mi è venuta la brillante idea di parlare di incubo di una notte di mezza estate. Prima di cominciare se ancora non lo avete fatto iscrivetevi al mio canale, mettete un bel mi piace a questo video e anche a tutti gli altri, condividete il video con tutti gli appassionati di Dilan Dog e commentate qui sotto con quello che ve ne pare di questo numero e di questo video. Se volete potete anche trovarmi sugli altri miei social che compaiono qua in sovraimpressione e qua sotto in descrizione sono facilmente cliccabili. Incubo di una notte di mezza estate, Dilan Dog numero 36, prima uscita 14 settembre 1989, scritto niente poco di meno che da Claudio Chiaverotti e disegnato da Montanari e Grassani. Uno tra i miei numeri preferiti, anche se devo dire che sul finale diventa uno tra i miei numeri non preferiti, per poi stupirmi di nuovo con l'ultimissima scena. Come tante storie di Dilan Dog la vicenda inizia per caso, quindi non con un cliente che va a bussare alla porta del nostro indagatore dell'incubo, ma con un incontro casuale della Scream Queen di turno che scappa da un avvenimento truculento, perché vi ricordo che i primi numeri di Dilan Dog sono comunque ancora molto molto splatter, con mia grande gioia. Che nonostante io non ami lo splatter negli horror, nella pellicola, li apprezzo tantissimo nel fumetto. La storia narra la vicenda di Vicky, una ragazza che passeggiando nella notte nei pressi di Stonehenge assiste a un rituale satanico, con delle persone incappucciate che ricordano molto il look del Ku Klux Klan, anche se con quel clan non hanno nulla a che fare perché stanno sacrificando un povero disgraziato di pelle bianca, quindi nulla a che fare con il razzistissimo club americano, lo stanno sacrificando e lo stanno sacrificando in un modo davvero truculento, estraendogli il cuore. Lo shock fa scappare Vicky, nome non a caso secondo me, che la fa incontrare con Dilan Dog e Graucio, che stavano tornando da una festa dei parenti di Graucio. Questo è il pretesto narrativo per far incontrare la cliente di Dilan Dog in quella che è una località molto distante dal centro di Londra. Vicky racconta a Dilan Dog che questi assalitori si sono messi a inseguirla dopo che lei ha urlato di fronte alla scena e durante l'inseguimento si è resa conto che uno di questi assalitori era niente popo di meno che un manichino, un manichino con la bocca sporca di sangue. Questo è l'elemento soprannaturale che accompagnerà tutta la storia. Questo manichino, questo losco figuro, inseguirà Dilan, Vicky e Graucio da Stonehenge fino a Londra, lasciandosi dietro una scia di sangue e cuori estratti. Io amo i fumetti moderni, amo i racconti per immagini dove non servono moltissimi balloon, moltissime parole per raccontare una scena, ma a volte mi piace anche questo sapore di retro e mi vado a leggere un vecchio fumetto di Dilan Dog. Perché? I vecchi fumetti di Dilan Dog, qua siamo negli anni 80, sono davvero pieni, pieni, pieni di balloon. C'è tantissimo da leggere. Se voi ci fate caso, se leggete un numero 36 e un numero moderno, noterete come finite molto prima il numero moderno del numero vecchio. Questo perché c'è molto più da leggere in un numero vecchio rispetto al numero moderno. Sono stili molto diversi, che sono cambiati ovviamente col tempo in questi più di 30 anni, che mi piacciono entrambi. Se volete un sapore retro, prendetevi un vecchio numero di Dilan Dog da un mercatino e troverete questo. Questo è uno dei numeri più scritti. Ora non mi sono messo a contare le parole, ma me ne rendo conto quando magari devo fermarmi un attimo all'incirca metà della storia. Che questo è anche un motivo perché i vecchi fumetti spesso avevano una storia divisa in capitoli. Qua c'è solo, a un certo punto, c'è il capitolo Magia, tutto lì, nel finale. Quindi è divisa solo in due parti la storia. Nella prima parte che non ha un sottotitolo e nell'epilogo, diciamo, che ha come sottotitolo Magia. Ovviamente se per caso non avete ancora letto questo numero, fermatevi perché adesso faccio un attimo spoiler. Spoiler è tra tre, due, uno. Quello che dicevo prima sulla parte finale che non mi è piaciuta molto, non mi è piaciuto come spediente narrativo che a un certo punto, questa viki, esca dal suo shock iniziale e si ricordi. Si ricordi tutto, si ricordi cosa stava facendo Stonehenge e si ricordi uno di essere lei l'autrice della creazione di questi manichini e due di voler diventare una strega e voleva fare un sacrificio umano. Mi sembra davvero un espediente molto, come si dice, molto rapido, molto sbrigativo perché si avevano a disposizione poche pagine nel finale. Fortunatamente c'è il salvataggio finale di questa storia con Vicky che viene travolta da una macchina. Se voi ci fate caso, Vicky rischia di essere investita all'inizio della storia, a metà e alla fine. All'inizio e a metà da Dylan Dogg, che per un soffio la evita, e alla fine dalla stessa Renault che guidavano i manichini, questa volta colpendola e mostrando che anche lei altro non era che un manichino, probabilmente lasciando anche il sospetto che ci fosse qualcun altro là fuori, magari la vera Vicky o un'altra persona che aveva creato anche lei. Quindi Vicky stessa era illusa di essere viva, si era illusa di essere viva e si era illusa di essere lei l'autrice, quindi magari c'è un altro autore di manichini là fuori. Il nome Vicky secondo me non è a caso perché potrebbe citare, omaggiare la serie Super Vicky dove questa ragazzina altro non era che un android, un robot. Ovviamente tra i numeri di Dylan Dogg non mancano delle frasi che fanno pensare, frasi che magari alle generazioni attuali fanno respirare un po' questo clima da boomer, queste frasi un po' messe, scritte male su delle gif postate su Facebook, però allora erano delle frasi genuine, come il fatto che Dylan Dogg dicesse sono due notti che non dormo, sono un indagatore dell'incubo, dovrei fare pratica dormendo anche se i peggiori incubi si fanno d'occhi aperti. È una frase che probabilmente se un ragazzino la sente adesso, un ragazzino che ha masticato un po' le varie epoche di internet, dice mamma mia che cringe, però comunque era una frase nell'89 che poteva far pensare anche un lettore abituale, perché comunque negli anni 80 ha lettori di fumetti assidui, non ce n'erano tanti come adesso, non c'era questa cultura nerd imperante. Non manca comunque anche una sorta di, diciamo, morale, comunque un pensiero sulla vita fondamentalmente, ci sono questi manichini moderni Frankenstein che sono vivi ma non capiscono perché, sono vivi ma non sono vivi e vogliono capire che cos'è la vita e lo fanno nel modo più dilaniato possibile, ovvero squarciando le persone, guardando cosa c'è all'interno, guardando il cuore che batte, cospargendosi di sangue perché loro non hanno sangue, semplicemente perché non capiscono, non capiscono che cos'è la vita. C'è anche il parallelismo tra il fatto che c'è il centro commerciale, il supermercato, che è il regno del consumismo, votato agli dei del nulla, per citare sempre le frasi all'interno dell'albo, cosa che tra l'altro condivido. E di come i manichini fondamentalmente abitino questi luoghi, questi luoghi del nulla, e loro stessi sono vivi ma non sono nulla. Però uno di questi manichini, quello che impersonificava, diciamo, il capo del supermercato, dice qual è la cosa più reale, la nostra non vita o la vostra vita? Cioè, queste cose un po' che vogliono dire tutto, vogliono dire niente, però fanno un attimino pensare. Che è comunque una cosa carina, non troppo pesante, su cui riflettere sotto l'ombrellone, perché lo dice l'albo stesso, è l'incubo di una notte di mezza estate, parafrasando il sogno di una notte di mezza estate, che è una commedia di William Shakespeare, da cui però prende ispirazione solo per il titolo. Bene ragazzi, grazie per avermi seguito fino a qui, la mia retro recensione finisce qua. Sappiate che il mese prossimo parlerò ancora di un numero di Dylan uscito una decina d'anni fa, che io non definirei il retro, però diciamo si lega un pochino alla live che farò, alla prossima live che faremo, che sarà Dylan Dog e la salute, o Dylan Dog e la malattia, se volete vederla in modo più pessimistico, che vi metto qua sotto in descrizione, vi metto alla fine del video, vi metto anche come rimando a fine della premiere, in modo che possiate salvare quella live, impostare il promemoria, in modo che possiate esserci tutti presenti. Per quanto riguarda invece questo numero, di cui io solo la ristampa, non ho l'originale, sul retro è pubblicizzato lo speciale numero 6 di 132 pagine, 7 anime dannate, di cui ho un fantastico brossurato che mi hanno regalato, e ne parlerò magari il mese successivo. Mentre per quanto riguarda il retro Dylan, dall'anno prossimo, da gennaio 2022, ci sarà una cosa un po' nuova, ovvero io continuerò a parlare di vecchi numeri di Dylan Dog, ma sono vecchi numeri di Dylan Dog, che io leggerò per la prima volta. Probabilmente a voi non cambierà nulla la mia recensione, però a differenza di io, che li avevo letti, li ho riletti per fare il video, li leggerò per la prima volta, quindi avrò un'esperienza a caldo. Magari noterete delle differenze, magari no, me lo scriverete, me lo farete sapere. Vi auguro una buona estate, con l'inchino e con l'imbuto vi saluto, vi dico arrivederci, al prossimo video di Dylan Dog, e alla prossima live.